E allora ragazzi, ciao a tutti, ben tornati qua su Farming Simulator 10 Ragazzi, oggi incredibilmente siamo in compagnia di Mito Ciao a tutti Che cacchio è sto hashtag? Allora, l'hashtag più ogni cosa me l'ha consigliato Mattia Curcina Mi ha detto, metti questo qua, Nick pagalo, mi devi pagare per tutti i lavori che faccio E mi sembra giusto E vabbè, oh, e ti darò un centesimo all'ora, dai No, no, di più mi devi dare Contentissimo E in più, vi volevo dire questa storia Intanto che noi iniziamo qui a fare le lavorazioni Questa è una delle cagate che mu racconta lui, ok? Non è vero, è una storia vera Mi ha chiamato, ho detto Mito, vieni per favore a giocare con me in Farming E non potevo lasciarlo lì che piangeva E quindi sono venuto anche oggi Oh, mi fai cadere Sono venuto anche oggi Quindi, beh, si capisce quanto sia una cagata questa, no? Sì Però mi piaceva dirla Ah certo, è una cagata Delle sue, ma gli piaceva Comunque ragazzi, come vedete Abbiamo messo il gioco veloce Perché Nick ha praticamente da solo Perché lui non c'era Ho raccolto tutto Ho seminato tutto Quindi tra poco ricresce tutto Ok? E quindi Questo qui lo metto qui E quindi ho messo il gioco veloce Come vedete ogni ora aumentano i soldi Grazie alle serre Guardate quindi tra non molto Appena arriva alle 4 Arrivano un 200 e passa euro Guardate E questi sono i soldi per l'appunto delle serre Ora se io riesco a capire che cacchio sto combinando Il dando Ce le ha le luci sto coso? Oh ma sto coso è più lento di mia nonna Come cacchio? Allora aspetta un attimo Tu mettiti in modo tale da poter scaricare Eh sì io mi devo mettere in posizione corretta Perché sono qua Oh non scappare però No 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 aspetta io prima mi posiziono dietro e poi Prima fammi posizionare in modo che scarico qua Ma scusami quei due lasciali sempre collegati Ok sì sì lo so ecco qua Oh 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 Eh Non pensavo che si alzava così tanto sto coso Ma che cacchiera perché si alza così? Eh perché davanti urta con le rotelline Ok perfetto va bene così dai Ok fermati fermati che vengo un po' a marci indietro Buono Va bene così? Direi Ok perfetto Ok quindi ragazzi iniziamo a fare un po' di soldi Ma io lo metterei un po' più lungo questo No no questo l'ho fatto apposta sai perché? Perché se ci dovessero essere problemi con come si chiama A me lo posso scaricare per terra Va bene perfetto Quindi sono le reti latine Ovviamente come cacchio si chiama lì L'animazione che scende non c'è mai Quindi va bene Ma penso che sia un problema della versione server Cosa del genere Cioè L'hanno fatto per renderlo Tra i vari qui collegamenti si vede che cade là no Eh si vede che lo hanno fatto per mantenere un po' il framerate più ba Ma io c'ho una 1070 che me frega del framerate Ma è il server che lo fa per gli altri Ma per me sta a dire una cagata tua e anche loro Va bene comunque Comunque vedi che ha preso il verde Sì no ma troppo Ha preso No l'altra volta Vabbè comunque raga Come vedete qui la roba sta a crescere pure nuvoloso Siamo anche sfigati a riguardo Quindi Stiamo aspettando che crescano un po' di culture No ancora qui è tutto verde quindi E niente raga Quindi praticamente vogliamo fare appunto le balle di paglia e di erba se è possibile E tu intanto vai al negozio A fare che? A prendere lo strumento Eh ma io non lo so Qua fanno soldi Li devo affittare oppure riusciamo a comprare almeno uno Che dici? Eh quello tondo costa... No 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 io voglio cose quadrate A me mi piacciono le cose quadrate Le cose tonde qua Scusami Così non si può sentire perché Vabbè che cacchio vuol dire quadrato? Se pensi male pensi tu male perché via c'è te Io parlo te Io parlo di macchinari Macchinari eh? E dobbiamo prendere quelli quadrati allora dai Che è più facile anche da raccogliere Ok ma tu che fai? Ti stai giocando qua con qualcosa? Eh io sto mettendo a posto il tutto Sto mettendo a posto quello che Cioè gli errori che il gioco produce Vabbè ovvio Beh comunque perché c'ho anche ragazzi Abbiamo tanta colza adesso 75.000 litri Però vale uno schifo Mi sa tanto che Ancora il gioco è messo veloce vero? Eh sì finché è verde Ma non aumenta il prezzo Anzi va pure più schifo Il prezzo Scusa di solito la colza Non la si riesce a vendere anche a più di 1100? Eh adesso non è che me lo ricordo io Cioè eh Vabbè Vabbè o famo una cosa Andiamo a vendere la colza Così Andiamo a vendere la colza Così facciamo un bel po' di soldini Per almeno un macchinario lo compriamo Perché la gente mi ha detto Nicchè no Compra i macchinari Che è alla lunga Di qua di là Ci spendi di più Ci spendi così E ci spendi così Va bene Allora raghe Raghe Il palo Sono andato a sbattere Quale palo? Sì Ok pare essere tutto pronto qua Dov'è il cassone quello buono? Ti pare che me lo ricordo? Qua mi sembra che ce n'è uno buono Eh Qua quello là del camion Non mi sembra che è qua il biogas Il fiegel Il fiegel mi sembra che è qui Vabbè lascia aperto Dai facciamo un'altra cosa Io piglio uno Tu pigli un trattore E andiamo a vendere Vabbè che se no qua Se vengo lì a prendere pure quello Perdiamo un mucchio di tempo Allora io prendo questo qui blu Joskin? Eh Sì Sì Lui è Ok Oppure posso collegare No qua io non posso collegare niente Per caro Devi guardare se L'ha messo Da me puoi collegarlo No 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 invece sì sai Eh vabbè dai facciamo due viaggi No 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 Non ce la fa Non ce la fa Non ce la fa Scherzavo Scherzavo Vai tranquillo Colza Oh perché Eccola qua Coco Coco Colza Beh penso che due cassoni li riempiamo Ma Quanto Dove andiamo a vendere poi? Eh È l'unico Aspetta Treno Treno Per forza È l'unico che paga Decento Ah e allora che ci vuole Vado al treno dai Io pure vado al treno Ti spingo un pochino se me lo permetti No 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 Non sfinge Non fa lo zuzzone Ti sto spingendo da dietro Non so se si nota Ma io l'ho capito che tu hai gusti strani Non è che non l'ho capito Va bene Vado Ecco Vai 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 47 mila Ora non so quando ce ne va lì da te Ma forse riusciamo a vendere tutto No no vendiamo tutto Perché 28 mila dovrei farcela a prenderli Ok Sì Perfetto Così facciamo due belle lire Magari compriamo un macchinario Poi Prendiamo qualcosa di inutile Teoricamente raga vorrei anche comprare le mucche Più avanti eventualmente Se abbiamo un po' di soldi Perché ovviamente per fare il concime per le mie serre Ho bisogno appunto di tante mucche Più le mucche fanno la cosiddetta Aham E quindi più concime Oh Quindi più vanno al bagno insomma le mucche E quindi più mucche ci stanno E più pomodori Possiamo non chiamare le mucche Magari Chiamiamo le vacche Ho capito che molti mi hanno detto Le devi chiamare vacche Ma a me mi suona come dispregiativo Sì Perché ti ricorda un'altra cosa Quelle vacche che E ho capito Però poi Poi vabbè C'è anche da dire che il gioco me le chiama mucche Quindi per rimanere un po' comprensibile Per tutti Perché poi magari c'è qualcuno che Magari non sa cos'è la vacca E dice che cacchio è la vacca E poi gli devo spiegare La vacca è la mucca E quello mi può dire Chiamare la mucca No? La vacca è anche un'altra cosa Io sono molto esperto di altri geni di vacche Che adesso non ti sto qui Vabbè comunque insomma Raga Per semplicità L'ho sempre chiamata mucche Sì 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 è giusto Volevo fare il doppio senso Con la parola vacca Lui pensa sempre in doppi sensi Poi si lamenta che sono io Dice Poi sono io Quello che faccio in doppi sensi Chi va a vendere col treno? Chi vuoi che ci va Il capo qua Il capo di sicuro non lo sento Il capo Il capo Il capo è quello che suona Si è montato la testa Che una volta io ho scritto capo Che facciamo oggi su farming E l'ha fatto veramente Si è montato la testa e il capo No veramente stavo pensando Pensavo che se l'era montata A lui la testa Perché mi chiamava capo E tu il capo Vabbè Vabbè Quindi sì Sul gioco sono io il capo Ma fuori dal gioco Se mi chiami capo Sembra un po' Una cosa strana No? Io anche fuori dal gioco Ci schiavizza tutti Ma va, va, va Vabbè Ogni tanto lo banno Quello è una cosa Ma in simpatia In simpatia Lo banniamo un po' tutti Comunque Ma si è bloccato il costo Al biogas Che soldi non ne arrivano più E bisogna andare a sistemare Vado a sistemare io Quindi sai Siccome sono io il capo Vai là Ok Subito capo Vai 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 Avete visto come mi tratta e non mi paga e non lo pago c'è ci siamo e poi 75 mila ma non erano 77 75 ma io non so neanche cosa stai di che cosa stai parlando corso no di che cosa possono allora ci siamo si parte mi conviene fare delle operazioni di marketing 75 mila dovrei fare più di 100 mila beh se devo comprare una cosa sicuramente compro l'imballatrice al massimo quella che carica la prendiamo a noleggio poi ma si quella lì poi la vediamo la che la vediamo c'è adesso prendiamo le cose che ci servono proprio se non possiamo andare avanti ok sono arrivato stazione suoniamo non ci arriva più sto cosa però ecco per suonare ho perso tempo non ce la faccio è cortissimo sto pari vanno i soldi non ci arriva niente 117 mila euro quindi dobbiamo comprare compa 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 nostra tecnologia per le pare balle dunque 102 mila costa il big baller e lo so costa un bel po costa basta l'ho comprato hai fatto bene ci togliamo il pensiero ok poi devo comprare quello da 70 mila e quello per le cose quadrate e sa non lo comprano ovviamente lo prendiamo 7.700 in affitto 3.500 euro all'ora e vabbè raga però non lo prende a noleggio insomma poi si hanno legge ok c'era un'altra cosa mi pare che mi serve la facciatrice quella dietro 42 mila non ce la facciamo stavolta o sennò a noleggio 4.000 e 6 che sia perciò anche arranghinatore no che allora facciamo così per l'erba se ne parla un'altra volta facciamo per ora facciamo per forza perché ci vuole ci vuole diciamo di valore perché gli stai vendendo a buono buono che così magari riusciamo anche a comprare qualcos'altra pure ora poi vediamo vediamo dove arriviamo con i soldi ovviamente eh sì sì ok allora io vado intanto in fattoria perché inizio a fare la lavorazione se vuoi sì ovvio bisogna anche andare a prendere il coso vabbè in caso ci vado io aspetta tu sai cosa puoi fare potresti mettere i vari macchinari eventualmente già a lavorare eh sì sì metto gli operai vabbè uno lo tengo io aspetta l'attimo perché qua prima mi devi fare la paglia perché sembra che senso ha ok io lo metto dall'altra parte l'operaio o vado io vado no no ci vado io no dico ci metto l'operaio o lavoro io ma fai quello che ti pare no vabbè basta che mi vado a prendere sto diamine di coso ripristina eccolo qua ah già c'è bisogno di trasportarsi via anche raccoglipalle qua e portami un mezzo lì che lo prendo io perché pure tu puoi fare ripristina ti sei dimenticato eh sì che ne so pia di quello verde una roba simile ok allora qua metto l'operaio questo non ha il gancio ok quindi ragazzi guarda che roba ci abbiamo qui il macchinario per fare le 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 balle quadrate eh sì e io devo prendere i raccogli raccogli vero? eh raccogli i balle sì ok così mentre tu arrivi io già faccio le balle eh mentre tu fai balle io le raccolgo mi pare che una rottura eh mi sembra non è possibile tu hai fatto già qualche balletta? sì ed io sono appena arrivato ma quindi non rompere le ballette eh oh eh eh non lavori tu oggi devo fare tutto io devo fare eh ma se il trattore fa solo 80 io che ci posso fare? pensa che il mio fa solo 53 e quindi che ti lamenta fa? ci vuole un trattore nuovo ci vuole eh oh oh non cominciare a mettere strane idee agli utenti qua agli spettatori no io non ho detto niente ci vorrebbe un trattore nuovo eh ragazzi allora lui vuole il trattore nuovo potente ok allora gli dite mito fai ogni fai ogni tanto un paio di love di live fai un paio di live ogni tanto così fai i soldi e mi chiedi contro il trattore non sei contento domenica allora faccio un'altra live aspetta perché mi pare che la prima balla lì è tipo quella che è più dietro poi la scarica in automatico mi pare no? sì 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 tu vai vai lavora tranquillo allora è fichissimo no come quelle rotonde che ti devono ogni volta fermare no 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 tu vai vai tranquillo che cade da sola cade vai che bello sì se ti metti sotto con le ruote non è che ha molto sempre eh no c'è l'operaio non voglio dargli fastidio all'operaio stai tranquillo sono un professionista io di questo gioco vai una presa ora comunque ricordo che hai messo un'altra macchinetta da là non pensavo così così ci mette di meno uno ti preoccupare faccio tutto io faccio perdonami volevo fare una cosa un po' un po' strana ah se io la tocco da dietro te la faccio cadere ah perfetto da vero? sì sì basta solo che gli do un colpettino lei cade giù aspetta ok non mi pare a me sì sì guarda fermati vabbè era già quella già stava cadendo eh sì stava già cadendo però io l'ho allentata un po' l'ho allentata ci ho messo del mio per farla andare oh però quante balle stavo a fare? mica poche eh? cinque? oh sì no se ne facciamo un bel po' le facciamo effettivamente ok e voglio anche vedere dietro appunto il caricatore lì ti ballo ah e dammi dammi il ballatore ah facciamo un po' facciamo un po' a cambio eh lo devo accendere oh com'è che mi fa entrare ok lo devo accendere ah no basta semplicemente io vado sì sì è già in posizione operativa devi solo metterlo con la b con la gambina in fuori e fa tutto da solo ma che chiacchio c'è una balla di qua una balla di là una rottura di balla però ce ne vanno un bel po' mi sa no ma ne abbiamo solo cinque io pensavo che ce ne erano molto di più no 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 sono tantissime quante ne ho qua qua sparse per il terreno ce ne sono un bel po' eh ah le ho viste quello poi è un mezzo che ho visto anche reale molto figo ma va così lento sto coso ma guarda quello è il trattore che non ce la fa appunto così pesanti eh sì ogni ogni balla balle no balla in pesa 2.000 4.000 anzi ah già sai che cosa adesso con le balle uh che laggata io non l'ho visto ha dato una laggata assurda adesso con le balle riusciamo a fare come si chiama il cibo energetico molto più facilmente perché prendi una balla di qua una balla di là e abbiamo finito ok intanto ah sai quando è che mi lagga quando tu prendi la balla addirittura mi lagga proprio che non riesco a più a fare niente ok ho preso tutte le balle che c'erano non è vero ce ne sono ancora e una la sto trasportando io che si è bloccata davanti a me ok siamo quindi ragazzi quasi arrivati alla bellezza di vabbè 13 balle 14 balles beh con un terreno comunque riusciamo a fare un bel po di balle ah ho fatto del danno viene a prendere questa qui qui sotto che mi si è eh non ti pare facile sgancia davanti si 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 sgancia sgancia prendi tra va ma che ha fatto a mettere quella lì eh lasciamo per ah era già lì no ho fatto un po di danno aspetta che te la spingo io un po indietro ah ok grazie ok oh io qua so pieno di più non ne posso caricare ah ok chiudi la gambina e scaricale dove vuoi eh già questo è il bello dove cacchio le scarico aspetta che io intanto metto a posto le trebbie ehm sono un attimo emozionate erba e cose varie e accidenti è una bella domanda dove scaricarle ah già vero mi dovrei ricomprare il coso per trasportare le balle così quando me ne serve qualcuno in giro le carico lì e me le porto in giro queste a noi dove ci servono queste balle di paia? eh non lo so ci servono dalle mucche non saprei si beh dalle mucche un po ovunque anche i maiali hanno bisogno eh anche i maialini ne hanno bisogno potrei stoccarle qua da qualche parte dovrei metterle qui da qualche parte ma è una domanda a cui non so dare molta risposta potrei metterle qui dentro e via mettili in mezzo alla strada no beh dai un po' quel realismo che fa? uno le lascia all'acqua e al vento? ehm si secondo me non ti ci sta poi in altezza non ti ci sta quando tu vai no e mo vediamo mo vediamo allora scarica balle tasto z mi pare che poi devo confermare comunque no? si 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 devi confermare quindi proviamo un po' così forse c'hai ragione te toglie piccola mi sai che ci va veramente a sbattere signor Nick io ho sempre ragione si ci va a sbattere non è possibile oh mi dica la scaricata cacchio ho paura che le ho scaricate lì davanti e allora lì devono rimanere ormai resteranno per sempre lì no io pensavo che con la z un'altra volta le ricaricavo no era con la x a nulla ma che cacchio vabbè insomma ragazzi alla fine alla fine ho fatto una cavolata le ho mollate qua fammi vedere ma vanno bene anche lì dai vabbè raga vanno bene tanto poi più o meno in qualche modo uno la cosa la sistema bene o male no? si ma poi le consumiamo non ti preoccupare questo qui non me lo fa eh no ok vabbè comunque il tempo è stravolato via e ci dobbiamo fermare dai poi si va avanti a prescindere in qualche altro modo e ogni tanto ci sta a mettere le cose ma poi le balle si consumano quindi ok le ho buttate giù per terra vabbè fa niente vabbè raccoglierele di nuovo lasciamo per trova la prossima volta ci trovo un posto più decente dove metterle ci devo riflettere questa volta rimangono qua poi eventualmente le posso anche le posso anche caricare in qualche altro modo poi vediamo vabbè dai dove sei? vieni qua concludiamo stiamo arrivando eccomi quindi ragazzi speriamo che il gameplay vi sia piaciuto mi raccomando come sempre commentate e iscrivetevi lasciate un bel mi piace e vi ricordo che in descrizione trovate il canale di Mito ragazzi ciao alla prossima ciao a tutti bep!